Musica Salve a tutti gente e bentornati qui con una nuova puntata di The Cap Lady Oh yeah! Bene, allora controlliamo sulla mappa che cacchio dovevo fare Allora, abbiamo fatto fuori tre appartamenti Ci manca Brian, il vecchio dell'appartamento 5 Quella che ha il bambino, credo sia una donna E uno strano rumone all'appartamento 7 Ma, beh, proviamo a vedere Direi che in questo caso è il caso di andare dal vecchio Dato che è il più vicino Bene, piano, piano, 5, 6 Scusate se non mi sbaglio Non vi faccio vedere la mia azione ovviamente Oh, eccoci qua sul piano giusto Andiamo prima dal vecchio Proviamo a vedere Porta Bossare, vediamo se c'è in casa E tu non addolcire la pillola, per favore Ok Ok, vai Avanti signore, apra Non abbiamo tutto il tempo di sto mondo Hello there, sir Parla Parla Or someone else Oh But we're not trying to sell anything It's just a little survey What? Wait a second I can't hear what you're saying, sweetie Let me get my hearing aid È cominciato bene Do you think he'll be back with a shotgun? Esagerata Don't be silly This isn't America Fuori dal mio giardino O meglio, dal mio appartamento I thought I heard someone What did you want? Do you own computer connected to the internet? Say again Oh dear Right Ok Do you I can't hear you very well, dear You'll have to speak up I'm an old man, you know I'll be 85 this year Ah bene Do you have a computer? There's no need to shout I've got my hearing aids I can hear what you're saying Bene Sorry A young, pretty lady like yourself Wouldn't understand about all day Oh dear You live in two different worlds, dear Oh dear And if you're here to make fun of me Why won't you just go ahead and be done with it? No, no With all respect, I I just wanted to ask if you by any chance Own a computer Pardon? Bene, perfetto Wait a second, dear I think I need to change the batteries in my hearing aid I must have forgotten to switch them off last night I'll be right back No, wait Perfetto Wow Siamo a posto, direi Jesus Davvero I don't think I've gotten enough patience for this, Mrs. A To be honest, the chances that he's our guy are pretty slim I think we should go Yeah, this is pointless Even if he did have a computer He probably wouldn't even remember how to switch it on Molto probabil Unless he's not alone You should ask him about that before we go Signore Can I help you? No, thanks, we're fine Have you found some batteries? What? I don't want to buy anything I told you before I'm not interested Proprio quello con l'Alzheimer Non è possibile I don't have any money Go bother someone else You live alone? When you're an old man like me You end up watching all your friends and family die I'll be 85 this year But I can still cook my dinner And I make my bed every morning All by myself Oh mio Dio Look, young lady I don't need any help I've told them already I can manage just fine Okay I can still cook my dinner And I make my bed every morning All by myself And not that it's any of your business But when I die I'll die in my own home In my own bed I'm honestly not trying to take that away from you We're just here to ask about I will not have anyone Washing me Or dressing me Or feeding me Perfetto Perfetto I can manage I've done it all my life And it'll stay this way Perfetto Okay, basta Ora posso andare I can still cook my bed And I make my dinner every morning All by myself Oh mio Dio Sorry to have bothered you, sir We'll go now Bene I'll see you later, ladies Questo l'hai capito, eh? Questo l'ha capito Mio Dio Next time I'll do the talking, yeah? He's tough Wouldn't answer a single question Cacchio, l'FBI But he can't possibly be an internet whiz No, decisamente Yeah, he's just a lonely old man Let's cross him off the list Direi Ok, abbiamo fatto fuori un altro appartamento Yeah Perfetto Ora Quello di Brian Proviamo con quello di Brian Però quello di Brian Mi sembra che dobbiamo fargli lo scherzo Se non mi sbaglio Quindi, beh, basterà Dobbiamo sentire se No, secondo me dobbiamo andare al prossimo piano Lasciamo perdere per il momento l'appartamento di Brian Lasciamo per ultimo Ah, allora Allora, l'ultimo è quello lì Ok Ok Bene Passeggino L'avevamo Passeggino, esaminare Mi fa solo male a guardarlo Povera Susan Cominciamo da qui Non saprei Bussare Proviamo Sperando che sia in casa Però se c'è il passeggino lì Direi che c'è un problema di I I really don't feel that comfortable around babies You know E beh, direi Yeah I can imagine I'd talk to her but I'm not quite sure how to approach this I'm hardly an expert on babies myself Hmm If only we had some good reason to talk to this woman What do you mean? Something like I don't know Something to talk about Hmm Qualcosa per distrarla, insomma We can't just knock on a door and talk about the weather Decisamente no Let's go somewhere else then We can always come back here later Va bene Abbiamo capito Dobbiamo lasciare stare il momento Ci serve un motivo o qualcosa per poter Porta 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 Azionati Origliare Oh, un rave party Che cacchio è? Rave party Yeah Bene Bene Sicuramente in casa Ma fatemi indovinare Non risponderà se bussa Ci scommetto, eh Ci scommetto Susan Susan Staccati da quella cacchio di porta Quello che dovevi sentire l'hai sentito Proviamoci Proviamoci Non si sa mai Perché non risponde alla porta? È sordo? Eh no Hai appena sentito che c'era qualcosa Cavo Tirare Se riuscissi a tirarli via Potrei togliere l'elettricità Entrambi gli appartamenti purtroppo sono attaccati troppo saldamente al contatore Staccare Perfetto E mo? Ah, non posso scendere? Ok, non posso scendere Vabbè Seggino Magari possiamo parlare del fatto che Oh, è uscito È uscito È uscito Parliamo Oh Potrebbe essere lui L'occhio di Adam Effettivamente It's just a tripped fuse Don't worry I'll just flip this switch And we're back on Jesse Can we talk to you for a second? Sure, sure But not right now I'm right in the middle of something Cosa? Un rave party? Vabbè Ok, abbiamo capito Anche lui Abbiamo bisogno di un motivo Bene Magari posso parlare con Nizzi Vediamo Che mi dà qualche Scassinare Sì, parlare So What next? Maybe we can find some clues in the mail There's a mailbox in the hall Quindi andiamo al pian terreno? Direi di sì Ok La posta però è chiusa E io come faccio? Ah Giusto Oh Mizi Oh Mizi Oh che cacchio È vero Lei può scassinare No aspetta Non te Mizi Scassina Do you think you can unlock this mailbox? I think I can most certainly unlock this mailbox Perfetto Ho avuto un colpo di genio Then do it quickly Someone can come in any minute Giusto Adesso vuole aria A little room with a master locksmith Va bene Really Could you step away towards the stairs and turn around? Please? Oh Dio Va bene Che ansia di prestazione Mamma mia Su dai Coraggio Master criminal If anything Finito? Detto fatto? Done Here's all the mail Hide it in your pockets And let's get out of here It was mostly junk mail and leaflets I threw those away Va bene Quindi Lettera per poi leggere Non qui tornerà da un momento all'altro Io non voglio essere colta nel fragante Ok va bene D'accordo Andiamo qui allora nel seminternato Ok Accendete la luce Ok perfetto E leggiamo sta lettera Lettera per Pauline Leggere Oh che cool This letter says she's supposed to interview an agency nanny later today Great I could be a nanny It's certainly worth a try But I should warn you I don't want to have anything to do with that baby You're gonna have to handle this on your own Sure I understand Leave it to me Mrs A Ok Perfetto Ci abbiamo un'altra lettera tra l'altro Ho notato Lettera per Joe Lettera per Joe Ah beh questa Leggere Viene dal dottor Frank Frank Zellman Fare sì allo striccio cervelli di Joe A quanto pare Joe ha mancato diversi appuntamenti di recente Bene Bene Pare che Joe sia schizzato almeno quanto me O peggio Chi lo sa Davvero dovrei essere l'ultima persona per mettermi di giudicare Hmm Io ancora non ho capito che cacchio è successo là Però Proviamo Vedere Ok Andiamo all'ultimo piano Or dunque Andiamo all'ultimo piano E quindi Ok Or dunque gente Spacciamoci come non si Si è mai spacciato nessuno E Bossare Ora vediamo che succede Coming Hello Right Step back I'll handle this Perfetto D'accordo Non dirlo a me Non dirlo a me Ok Maybe But why is Mrs Ashworth here? Hello Mrs Ashworth Eh poverina Imbarazzata col bambino che c'è lì O bambino O bambino Come va? How are you? Esatto I'm great Thanks I haven't seen you for ages Are you here to apply for a job as well? No Of course not I Oh Susan's my auntie She told me about the job I was a bit shy to come and ask like this So she offered to come along She is my favourite auntie Thank you so much again auntie Susan No problem sweetie So anyway I'm starting this course on child psychology next semester And I thought it would be useful to get some hands on experience with little children How old is your daughter? She's nearly six months That's perfect Aren't they just the cutest Most adorable little muffins when they're six months old? Yes Well You sure sound enthusiastic? Eh beh Would you like to come in? D'accordo Andiamo Both of you? It's okay I'll Wait Please come in too auntie Susan I could really do with your Support You know how shy I get sometimes Coraggio Yes Well You'll Prevedo risate Come on come on Dentro dentro Coraggio Bye You owe me We need to work together on this I'll do the talking I promise Fine Just don't overdo it Vai Come on It's too late for that Mrs. A Abbiamo già esagerato effettivamente Su Entra Entra Chiuditi porta Chiuditi Oh che bella What a nice flat I love the wallpaper Very retro Um Thanks I decorated myself Just before Alyssa was born Please follow me We can talk in the living room Ok Cominciamo a cercare I'll need you to drag her away How the hell am I supposed to do that I don't know I'm sure you can think of something Why don't you think of something I told you I don't do babies I feel so uncomfortable here I'd gladly blend with this cheesy wallpaper That you like so much And disappear I know So do I Do you think I know anything about babies No But I'm trying to fake it And so far she's buying it I need you to stay cool And come up with something That'll make her leave the room Got it But that's where the problem is I can't think of anything Just play it by ear, yeah Come on Ah ok Va bene Ah non posso Ok vabbè Foto Andiamo Esaminare Sono per la maggior parte foto di una bambina Un paio sono di Pauline e del suo ex Ma la faccia di lui manca da entrambe Se davvero vuole cancellare questo tizio dalla sua vita Perché non si limita a togliere le foto Ma Boh Chi lo sa Ok I should let you know I should let you know the basics I'd like to get back to work soon You see Just part time for now Mmm That's why I need someone to stay with her I'm not going to find it easy to be apart from Melissa But my career But my career has always been important to me as well They won't wait for me forever I bet If I don't do this now They'll just replace me Mamma mia There just isn't enough support for working parents Tell me about it If I don't get back to work in two weeks time They will cut my maternity pay in half So I haven't really got a choice It's either this or Alyssa and me will face the life in poverty Where do you work? I'm a hotel manager It's a very competitive industry but I've always loved it I miss it a lot Mmm Ok Where's Alyssa's dad? Do you mind me asking? I Meglio non chiederlo Forse non dovevo I'd rather not talk about it Direi It's personal Mmm Perfetto As far as I'm concerned Alyssa hasn't got a father I'm sorry I shouldn't have asked No it's alright But I just don't like talking about it Mmm I'm sure you'll understand Mmm D'accordo Bene I have a great connection with kids I'm sure I can manage with Alyssa Perfetto Ok I don't doubt that How about Would you like to hold Alyssa for a minute? Oh mio Dio We should probably see if she likes you first I Yes Definitely Aww Vediamo But Però I ought to wash my hands first Ah Your hands? My hands I must have touched a million things on my way here As much as I want to hold her I just don't think it's safe You know Oddio Really? Sì What have you been touching? Oh you know Just Ordinary things This and that Mmm You look pretty clean I'm sure it'll be okay Well If you must know No I Poco fa ho carezzato un cane che pareva piuttosto sporco O Oggi ho fatto volontariato all'ospedale Proprio qui fuori ho abbracciato un sezzatento Non mi sono lavata le mani dopo di aver usato il bagno No di un cattivo gusto Proprio qui fuori ho abbracciato un sezzatento No Vediamo cosa dire I have the helpless man outside this house Oh Mmm E già If that's the case then I would very much prefer that you wash your hands Direi I'll show you to the bathroom Oh bene Perfetto Would you mind answering the door for me? Sure No problem It's probably just my friend Kate Just let her in please Is that okay? Okay The bathroom is this way Follow me Perfetto Questo si che si chiama casino incrociato O guai incrociati Micchia Che bello schermo è Your turn Mrs. A Okay Seriously Do something Anything Fine Make sure you scrub those dirty hands really well Decisamente I need a bit of time Vabbè Prima di tutto cerchiamo di capire Chi è quello che sta Chi è che c'è lì Allontaniamo da qui quello lì Libreria Esaminare Qui c'è Non c'è nulla di utile Solo libri Libri Ancora libri Qualche giocattolo Porta Aprire Oddio Oddio Hello Allò Mi chiamano come l'ha detto Allò Hello Are you Kate? I've been sent by the agency My name is Rita Tickle May I come in please? No Agency? What agency? The Happy Nanny Babysitter's Agency Of course Libesitterraggio We bring fun and professionalism Into child minding At a discount price May I come in please? Wait Just hang on a second I believe we have an appointment It was confirmed by post Can you get a letter? Ferma Hang on I said Mi spiace Il posto è già stato assegnato Indirizzo sbagliato Smammato Quattro occhi Oh mio dio No Questo I'm sorry The position has already been taken Oh great Yeah Are you sure? No Guarda I'm sure Thanks for your time See ya Wait 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 Ferma Ferma Cosa? There must have been some kind of mix up No There wasn't a mix up You're just too late Bye I'd better call the office And find out what happened Sì 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 Bene E io che faccio Intanto Stacco il cavo Però non ho niente per staccarlo Oh mio dio Adesso che faccio? Vai Provemo a tornare indietro Ok Vediamo Finestra Televisore Oh Bella Un secondo Portatile Utilizzare Vai Non ne so abbastanza di computer Per meglio E lasciarla a mezzo Merda Porto del bagno Foto Observare Ci sono un sacco di foto Di paulini del suo ex La faccia di lui È stata ritagnata Per tutte le quante E immagino Che sarebbe successo Qualcosa di brutto Oh forbici Prendere Stupida donna Lasciare una bambina Accanto a un paio Di forbici affilate Effettivamente Non è molto Non è molto intelligente Però È una madre single Poverina Tutto il tempo Non è facile Soprattutto con un bambino piccolo Che carino Uh Picco picco Adesso Televisore Che figata è il televisore Vediamo che cosa posso fare Esaminare Che televisore grande Già Ha la faccia dei problemi economici Ah bene E ora Aia So Was it my friend at the door? No Just some Door to door salesman Esatto Well I hope you told him To go to hell I honestly don't know What these people are thinking Di vendere Di vendere Oh merda Di nuovo I'm sure it's Kate this time I'll let her in if you'll excuse me for a minute Wait Oh mio dio Credo di essermi dimenticato Il rubinetto aperto Le mie mani sono ancora pulite Devo rilavarle Tutto a un tratto Mi sento poco bene Penso che ci sia entrato Penso che mi sia entrato Quale cosa nell'occhio Oddio Quale 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 Usiamo gente Le mie mani sono Non sono ancora Un pochettate In pochettate Questa è quella più assurda Tutto a un tratto Mi sento poco bene Penso che questa Però posso Accurare di lui I'm feeling Really sick All of a sudden Oh Do you think you're actually Going to Throw up? Yes Definitely Oh Yes Quickly go back to the bathroom I don't mean to be rude But this is a very expensive carpet Oddio Will you come with me? Please What if I faint? I'm scared Everything's just spinning around Oddio Can Mrs. Ashworth go with you for a change? It's okay I'll answer the door and let your friend in, yeah? Coraggio 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 Dai, cascaci Fine I'll put Alyssa in her bed for a minute And I'll come with you That's why you should never hug hobos Ecco perché non si dovrebbero mai abbracciare i barboni Oddio Oddio It's you Again Hello 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 Is this flight number 8? My name is Rita Tickle From the Happy Nanny Agency May I come in please? Ma non mi riconosci? Non mi importa come ti chiami Per me tu ti chiami No Ascolta tesoro Mi dispiace Non posso aiutarti Look Sweetheart I'm sorry I can't help you You are looking for a nanny, yeah? No Not anymore Levati I have 10 years experience And training In child discipline techniques And behavioral psychology Levati Also I am known for Good personal hygiene Strong work ethics And I only take one break Every five hours Oddio 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 Just to use the restroom Oddio Wow That sounds really great But I don't need your services You don't need a nanny No No I've decided to give my baby up for adoption Oddio 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 You are an evil person Ma veramente You will go to hell For doing that to your baby Ma levati Yeah I'm evil But you're thick Ha detto Zuccona Non zocco Davvero Bene Meno male Allora Vediamo Allora Adesso che abbiamo un paio di forbici Possiamo fare quello che penso che si possa fare E cioè questo Allora T Tagliare È un attentico suicidio Non faccio simili stronzate Non più Almeno Non deve esserci Deve esserci un modo più sicuro Ok D'accordo E sia Ci deve essere un modo più sicuro Cosa devo fare? Dentro non ci torno Perché altrimenti Riparte tutto da capo Mi ritorna quella là A ruppere i maroni Forbici Tagliare Come non c'è niente da tagliare? E mo? E mo? Mo che faccio? Aiuto! Aprire No Non posso Non posso essermi Passeggino Aspettate un secondo Ehi Ho ancora un cacciavite? Strano Lettera per giù Forbici Tagliare Non c'è niente da tagliare Come non c'è niente da tagliare? Maledizione Contatore Vediamo se posso usarlo Forbici Tagliare Non c'è niente da tagliare Ma che cacchio stai dicendo? Ci deve essere un modo Un pezzo di stoffa Qualcosa Te Libreria Tagliare Non c'è niente da tagliare Oh merda Che cacchio Ci deve essere un modo Maledizione Le tende? Potrebbe essere Vediamo Vediamo Forbici tagliare Perfetto Levatemi Fatemi andare Coraggio Portatile Foto Non c'è niente Diamine Non può esserci niente Che diamine Esaminare Sento l'acqua Scorrere Devo fare in fretta Potrebbe uscire Da un momento all'altro Ok Sparati Un cacciavite Vabbè Forbici Tagliare Non c'è niente da tagliare Maledizione Che palle Ci deve essere qualcosa Che posso fare Maledizione Una qualsiasi cosa Cucina Cucina Trovo Ok Vabbè Ho capito Aprile Ma Secondo me C'entra qualcosa Questo passeggino Ma ci devo fare qualcosa Passeggino Passeggino Esaminare Mi fa male solo guardarlo Maledizione Fruga Cacciavite Uta No Aspetta Secondo Forse ho un'idea Cacciavite Effettivamente Cacciavite Posso usare il cacciavite Cacciavite Ehi Tu Utilizzare Non c'è niente da svitare Ma che cacchio sta dicendo Utilizza questa cosa Allora Ah no Che stupida È molto semplice Basta che stacco il contatore E poi Dopo aver tolto la corrente Posso tranquillamente Staccare il cavo Perché tanto non c'è più corrente Ma che imbecille Vabbè Tagliare Ok Dai Let's create some diversion I hope this is what Mitzi had in mind Sì sì tranquilla Lei se la cava Coraggio vai Yeah Sarà inattaccabile Bene Tutto nero Oscuro Not that again What happened to the lights I'm I'm terrified of the dark Oh mio dio I I I can't move Oh god Can't breathe Calm down It's alright Probably just that stupid mirror It must have run out of money again It's not even that dark Please You've got to do something about it I want a bambina I think I'm going to faint Oh mio dio Mitzi Che grande attrice Fine Just stay in my bedroom There'll still be plenty of sunlight there at this time of the day I'll go outside and put some money on the meter It'll only take a minute Perfetto Vai Mitzi È ora Vai Andiamo Oh sto muovendo Mitzi Che bello Utilizzare Right Let's do it Yeah Ma dobbito fortemente ti senti Solo così Is that you Mrs Ashworth? What happened? Um No idea Esatto Maybe it's a blackout Like in the old days E chi dì? It's probably just the meter Let me see you Coraggio 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 Ok Mitzi cos'è scoperto? So it's not her either Eh beh È un po' difficile sinceramente What a waste of time Eh già It's time to leave This interview is over Direi Aspettate un secondo Che voglio vedere come Che tipo di Sono uguali ok Non cambia niente Porta dai Aprile Che succederà adesso? I don't get it The cable's been cut But why would anyone do that? I think we're going to go now This whole power cut gave me a terrible headache Is that you Mitzi? Eh già But we haven't finished yet Oddio Have you turned to remind about the job? No of course not I'm just scared of darkness And I still feel sick you know Oddio Perhaps we can continue some other time Vai esordisci con la tua frase Sfutopica Vai Allo Oh scherzo I've had it I'm getting a new fuse box Is that you Jesse? Yeah How are you doing Pauline? Well I We need the power back Can you do something? Yeah I can easily fix that There's an electrical store It's open till late I'll get some stuff I'll be back before you know it Ok but bear in mind It's not just the fuse box It's the cable this time I'll get a new cable too Don't worry But in the meantime Go home Find some candles And chill yeah Thanks Jesse That was awfully nice of you Perfecto Well it was great seeing you But we're going to leave now Hello Hello Who's that? My name is Rita Teckel Rita Who? What the hell is going on here? Eh niente Do you know this woman Mrs Ashworth? Sì sì che ma Hello Oh Dio I've never seen her before In all my life Bendetto Bendetto Che ride Now she'll think we are absolutely crazy I wouldn't worry too much You're not exactly the most popular neighbor In the house Anyway Oh Dio Thanks What? You don't actually care what those idiots think do you? Hmm No Of course not It's just that Pauline seems alright I'm not too proud of causing her all this trouble It'll get fixed soon Look Jesse's gone out We can now get inside flat 7 And see what he's been up to Ok Yeah That sounds good We can also cross Pauline off the list I've searched through her internet history And needless to say there's nothing exciting there Perfetto Quindi non è lei Bene Gente Abbiamo fatto fuori due appartamenti Nella prossima parte Finiremo di Espezionare Tutto il complesso Bene Spero vi sia piaciuta questa parte E ci rivediamo Alla prossima Yau 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 Yau